Non potete capire! Oddio mio! Come ho fatto a non vedere! Oh, ragazzi, questo è veramente hard come sfida. È una sfida che ha fatto Sabrina dopo aver pubblicato una foto e ha detto che dovete concentrarvi sullo sfondo. Io l'ho guardato, non ho visto niente di male, anzi non capivo neanche cosa c'era di sbagliato e nonostante guardavo esattamente dove dovevo guardare, adesso è tutto molto più chiaro. Oh mio Dio, non so neanche se potrei pubblicare, probabilmente pubblicherà un po' censurata proprio per questioni abbastanza ovvie, diciamo. Oh mio Dio, ci sono rimasta malissimo quando ho capito di cosa... Qualcosa... Qualcosa... Grazie a tutti.